Come dicevo, adesso rispetto a quello che farò in futuro, ci ragiono perché è un momento dove bisogna arrivare a mente fredda a prendere delle decisioni. Adesso a mente fredda non ci sono perché la botta è troppo recente e quindi ci penso. L'accusa anche su molti social network oggi è quella di favorire il centro-sinistra con questa mossa. E dicevo, l'accusa va mossa perché è chiaro che tensioni all'interno del centro-destra in Veneto favoriscono ovviamente il centro-sinistra. Ma la responsabilità va a chi ha determinato questa rottura, a chi ha voluto questa rottura. L'aveva calcolata Salvini secondo lei? Quello che dicevo prima, secondo me, basta guardare come è passato sopra la Liga Veneta perché ha ben dire che sono i Veneti che decidono quando il commissario lo determina il Consiglio federale. E quindi è passato sopra la Liga Veneta pur di arrivare a questo risultato, quindi immagino che sapesse che si poteva determinare una rassinazione.